Giovani laureati, ricercatori e dottorandi che aiutano i liceali toscani a scegliere la facoltà universitaria più giusta per loro. È con questo obiettivo che la Regione Toscana ha promosso il progetto Orienta il tuo futuro il significato delle scelte, in collaborazione con le Università di Pisa, Firenze e Siena. Dopo un corso di formazione, durante il prossimo anno scolastico, i neolaureati testimonieranno la loro esperienza di studio e di lavoro agli studenti delle classi quarti e quinte degli istituti superiori di tutto il territorio regionale. Ma con quali motivazioni i giovani laureati hanno aderito al progetto? Io ho fatto la tutor all'università, mi sono trovata veramente molto bene, ho fatto anche dell'orientamento nelle scuole, mi sono appassionata e per questo ho deciso di fare anche il progetto per portare la mia esperienza dell'università e anche del passaggio tra le superiori e l'università e la difficoltà che ci può essere. È utile ed è utile soprattutto sia come confronto sia per arrivare a una scelta in maniera più consapevole, cioè avere avuto, cioè avere comunque una persona, avere avuto, stavo pensando al mio percorso, delle insegnanti che comunque ci hanno dato delle informazioni ma diciamo sono limitate alle facoltà un po' più diciamo tradizionali, lettere, giurisprudenza, però senza un vero e proprio orientamento nella mia storia personale è un po' pesato perché poi sono stata io a trovare le motivazioni durante il percorso universitario. Attualmente le scuole che partecipano al progetto sono una decina, situate a Firenze, Figline Valdarno, Piombino, Cortona, Lido di Camaiore, Cascina, Pisa e Porcari. Abbiamo avuto una grande risposta dalle scuole, in particolare ci siamo rivolti a quelle scuole nelle periferie, cioè nelle zone più periferiche della Toscana, quelle che hanno più bisogno di contatti, hanno più bisogno di informazioni, hanno più bisogno di far capire ai giovani che studiare funziona, è una cosa che serve per il loro futuro.